Senza Filtro Benvenuti ascoltatori da Angelo Musumara, Senza Filtro vi presento oggi un'intervista di Elena Meiner, musicista Valdostano Salvatore Livecchi che si esibisce venerdì 2 dicembre all'Istituto Italiano di Cultura di Parigi nell'ambito del progetto Suono Italiano il mercoledì 14 dicembre a Marsiglia nel quadro delle iniziative promosse per la celebrazione del 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia nell'edizione 2011 della Settimana della Lingua Italiana e il Mondo Senza Filtro Salvatore Livecchi, come portare una sapienza, una conoscenza italiana in Francia? Tu sei chitarrista, però prima ancora di essere chitarrista ma anche dopo sei uno che fa musica elettronica che costruisce suoni dalle macchine come si diceva già all'inizio tra l'altro portate in Francia in due date interessanti dicembre brani di compositori italiani all'avanguardia esatto, nasco inizialmente come chitarrista ma la mia passione è sempre stata quella dell'informatica che fortunatamente sono riuscito a far convogliare in un'attività lavorativa e in questo caso principalmente musicale riusciamo a fare questi concerti dedicati alla musica contemporanea grazie a delle opportunità che si sono state date in Francia in particolar modo per quanto riguarda il progetto Suono Italiano e per quanto riguarda l'Istituto Francese per la Cultura che ci dà la possibilità di eseguire questi brani composti da Luigi IX negli anni Sessanta e da Maurizio Cagel che è comunque un compositore di origine argentina ma che deve molto ai compositori italiani e tutto quello che è la scuola di musica elettronica nata come nel resto del mondo intorno agli anni Sessanta che adesso vede una fiorente attività grazie anche alle nuove tecnologie che sono sempre più interattive e sempre più plasmabili rispetto a quello che poteva essere il nastro magnetico nello scorso secolo e che dà diciamo molte più possibilità per il fatto di trattare digitalmente i dati essendo trattati in modo digitale questi possono avere diciamo un'evoluzione molto più ampia rispetto a quello che erano i limiti del mondo analogico Il computer diventa uno strumento musicale partiamo da Luigi IX tra l'altro è parte integrante del programma che portate a Parigi il primo dicembre poi a Marsiglia il 13 di dicembre un brano, la fabbrica illuminata per il quale lui durante la composizione si era recato di persona a Genova perché il brano è dedicato ai lavoratori dell'Ital Seedere di Genova per registrare i suoni delle macchine c'è un passaggio in più poi in concerto cioè non basta mettere la musica già registrata bisogna fare un altro tipo di lavoro Esatto, il brano innanzitutto come organica è un brano per soprano e nastro che ovviamente nel 2011 non verrà più utilizzato ma vengono utilizzate delle tecnologie digitali come ho detto poco fa e diciamo che l'interazione in questo tipo di musica vale per le musiche di Luigi IX ma tendenzialmente per tutto quello che è musica elettronica è da un punto di vista tendenzialmente spaziale ovvero lo stesso brano che magari sul CD non rende alla stessa maniera tramite la spazializzazione dei suoni quindi in questo caso il brano originale è per quattro piste queste quattro piste nella realtà ovvero durante l'esecuzione coincidono con le sorgenti sonore ovvero da dove il suono fuoriesce tramite procedure informatiche questa spazializzazione viene eseguita in tempo reale ovvero il computer non può essere considerato uno strumento musicale ma in questo caso ne ha la funzione ovvero tramite interfacce di controllo più o meno recenti questa interazione tra il soprano, quindi la cantante e la parte elettronica ha una vita ovvero quello che dovrò governare io è simmetrico a quello che deciderà di eseguire quel giorno la cantante, il soprano La fabbrica illuminata di Nono è del 64 l'altro brano che portate Salvatore è Sofferte onde serene ed è stato composto nel 76 si tratta comunque già di musica vecchia quasi, cioè musica comunque d'autore ormai l'avanguardia l'abbiamo superata ma diciamo che questo genere di musica soprattutto con le possibilità recenti riesce diciamo tantissimo a rinnovare il risultato finale ovvero quello che succedeva in quegli anni ovvero in cui il computer e l'informatica non era era già nata ma che ovviamente non era a pannaggio di tutti come lo è adesso dà la possibilità di far ringiovanire quello che una volta era soltanto un'esecuzione statica ovvero il brano originale era per uno strumentista in questo caso è il pianoforte ma potrebbe essere, ci sono tantissimi esempi di tantissime altre famiglie di strumenti che veniva semplicemente riprodotto ovvero la parte più importante del lavoro fino a quegli anni era la preproduzione ovvero come veniva creato il nastro come veniva utilizzata una tecnologia per riprodurre determinati effetti acustici la cosa molto più interessante che dà una seconda vita a questo genere di musica è l'avvento dell'informatica e del tempo reale ovvero tutti questi brani che nelle prime esecuzioni erano statiche adesso prendono una vita nuova e dinamica col vantaggio appunto che possono seguire quello che diciamo in modo cioè possono interpretare come fanno in quel momento i musicisti in scena ovvero anche io che meno romanticamente starò davanti a un computer e non magari a uno strumento dell'ottocento starò in quel momento interagendo con le scelte diciamo di interpretazione di dinamica, di esecuzione dei musicisti direttamente sul palco allora citiamo intanto chi sono gli altri musicisti con cui sarai a Parigi e a Marsiglia e poi soprattutto tu che arrivi in qualche modo dalla chitarra quindi questo strumento che si tiene tutto in braccio e comunque contenuto da lì passare al computer che diventa uno strumento virtuale perché la parte che suona è tutta non si vede insomma non te la puoi tenere in mano non lo puoi controllare quindi con chi sarai e che cosa farai? allora starò con due amici con cui ho già suonato questo giugno con cui ho suonato a Torino durante la festa della musica presso l'Op di Torino del Conservatorio di Torino che sono Andrea Stefanel Stefanel pianista e Stanislas Pili percussionista e per quanto riguarda invece il discorso dello strumento diciamo che il tipo di la musica elettronica può essere fatta direttamente tramite computer e quello ovviamente ha come ausilio soltanto un mouse o una tastiera quindi con un utilizzo tradizionale in realtà esistono sempre più delle interfacce che nascono per essere strumenti musicali nuovi ovvero nello specifico per esempio quando farò questo tipo di concerti io avrò soltanto il monitor del computer ma davanti a me avrò un cosiddetto controller media ovvero con dei pulsantini che sembrano quelli che usano i DJ ma con una versatilità un pochettino più ampia purtroppo anche con un costo un po' più ampio comunque che hanno la funzione di strumento musicale ovvero non c'è più una liuteria musicale come avviene con gli strumenti tradizionali ma anche qui c'è una sorta di piccola liuteria elettronica che a seconda delle caratteristiche del progetto che si va a realizzare fa scegliere a me o comunque chi gestisce l'elettronica quale ausilio informatico utilizzare per rendere più agevole questa rappresentazione vediamo un altro dettaglio perché è vero che passare attraverso il computer è una cosa molto particolare c'è un effetto collaterale che è quello di conservare le registrazioni conservare il nastro magnetico convertire in formato più agevole questa parte delle composizioni che ormai hanno un po' di anni penso ad esempio all'altro autore che presenterete che è Maurizio Cagel con Transition anche lì è un lavoro comunque degli anni 60, 58, 59 però ha già subito un restauro si può parlare di restauro per un lavoro di questo tipo cioè non basta avere la partitura e suonare ci vuole qualcosa di più allora diciamo che la gran differenza tra le opere che porteremo quindi tra quello che è l'opera di Luigi Nonno e quella di Maurizio Cagel è che la parte di Luigi Nonno, la parte di nastro è quella originale e quella originale viene semplicemente tra virgolette spazializzata e riprodotta mentre per quanto riguarda Transition il lavoro è molto più ampio ovvero è stata presa la partitura originale ma anche la parte di preproduzione non è presa dal brano originale ma anche questa è stata eseguita quindi è un lavoro che noi abbiamo iniziato più di un anno fa in cui abbiamo registrato circa 20-25 minuti di musica e questa musica poi successivamente è stata editata da me e il giorno del concerto riprodotta quindi da quel punto di vista è un'opera completamente rivista anche totalmente differente da quella che è stata eseguita intorno al 2000 da Alvise Ridolin e quindi da questo punto di vista è molto simile alla musica tradizionale ovvero anche in questo caso abbiamo preso una partitura e siamo noi gli interpreti nel bene e nel male di tutto quello che viene fuori quindi due discorsi, cioè parliamo comunque di musica elettronica ma in modi differenti quindi con Luigi Nono c'è una preproduzione originale fatta da Luigi Nono e in questo caso una preproduzione per Maurizio Cagall e Transition concepita direttamente da noi musicisti Due concerti in Francia e in Italia? In Italia è una bella domanda è sempre un po' difficile in generale per la musica ma per questo tipo di musica che non è proprio quella che si fischietta in cucina mentre si sta preparando la cena però molto probabilmente faremo una piccola tournée per quanto riguarda i licei musicali nel Piemonte e adesso senza sbilanciarmi perché ancora non abbiamo certezze ma probabilmente in un importante festival valdostano il prossimo anno riusciremo a fare una parte di questa produzione su Luigi Nono e una parte completamente originale in collaborazione con Jean-Claude Oberto che si occuperà dei testi e di altri valdostani che è ancora un work in progress nel senso che stiamo organizzando questo progetto originale che avrà un omaggio sempre a Luigi Nono e una parte di musica originale mie con testi originali di Jean-Claude e dei video di Andrea Carlotto grazie a tutti Grazie a tutti.